Ritorna in città il 31 luglio e il 1 agosto, dopo un anno di stop causa Covid, l'evento più atteso dai sassaresi con l'undicesima edizione della Cioghitta d'Oro. La manifestazione, inserita nel programma Salute Trigu, promossa dalla Camera di Commercio di Sassari per la ripartenza del nord dell'isola del comparto turistico e culturale, avrà una nuova location, Piazza Moretti. A presentare l'evento, con ingresso gratuito a partire dalle ore 20, Daniele Coni e Laura Calvia, della compagnia Bobo Chanel. La novità introdotta quest'anno è questa, i concorrenti, i cosiddetti succhiatori, parteciperanno singolarmente per il rispetto delle norme sanitarie imposte. La gara consiste nel succhiare senza alcun aiuto di utensili le lumache cucinate secondo la tradizione tipica locale, il maggior numero di gasseropodi nel minor tempo possibile. Particolare il nome dei giudici detti RIS, ovvero reparto investigativo succhiatori sassaresi, ad intrattenere il pubblico la Cioghitta Band con brani sassaresi. Oltre al premio finale lumachina d'oro, in questa edizione è stato inserito lo speciale riconoscimento canino d'oro, unico strumento consentito per partecipare alla gara di succhiatura. La camera spinge su questi eventi qua, promuovendoli a livello internazionale su dei siti specializzati. Ci auguriamo semplicemente che questa iniziativa, come sempre è successo, riporti il sorriso nella bocca dei sassaresi. Potete iscrivervi o venerdì all'interno del centro commerciale Le Porte di Sassari, ex città mercato, oppure abbiamo individuato tre bar all'interno del centro di Sassari, il bar Sanremo in Via Lumberto, il caffè Ciardana in Via Sfroni e il Bida Bar in Piazza d'Italia, dove potete andare e iscrivervi sul posto.